Buongiorno a tutti. Continua senza stop l'appuntamento di comunicazione del Sindaco sull'aggiornamento amministrativo del Comune di Quigliano. Si ricorda che il 20 settembre scadono le domande per il doposcuola giocompito che si svolgerà al centro Malacrida per gli alunni delle scuole primarie nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, richiedibili anche singolarmente, con servizio mensa presso l'asilo vadone e orario sino alle ore 16.30. La domanda si può fare anche in attesa della certificazione ISEE. Per informazioni chiamare l'ufficio 019-2116 oppure 019-2240. Sono previsti note i laboratori ludico-recreativi nei pomeriggi del lunedì e giovedì su prenotazione. Tutte le notizie sono presenti sul sito del Comune. I prossimi appuntamenti di Quigliano Natura sono i seguenti. Oggi alle ore 20.45, inaugurazione del progetto internazionale di digital arte rinascita a cura di Silvano Godani e Cristina Sosio. Per prenotazioni telefonare in biblioteca comunale. Ancora una giornata dedicata agli appassionati della natura sarà domenica 19 settembre su e giù per la valle del Tresenda, una camminata pomeridiana sul territorio di Quigliano a cura dell'associazione turistica Proloco Quiglià. Prenotazione obbligatoria numero 347-7418-914. Giovedì 23 settembre si potrà visitare il Museo archeologico di Finale. L'evento rientra negli appuntamenti dedicati ai 35 anni dell'attività dell'associazione del gruppo esclusionistico La Rocca. Prenotazione obbligatoria numero 320-5348-687. Il turismo sostenibile sarà il tema del convegno organizzato dall'assolato del turismo ambiente con l'ufficio turismo e urbanistica per venerdì 24 settembre alle ore 17 presso la sala consigliare in piazza Costituzione Aquiliano, nel cui contesto verrà consegnata al comune la targa rete comuni sostenibili. Prenotazione obbligatoria alle mail servizi.cittadino-chiocciolocomune.quiliano.sv.it Sabato 25 settembre viene dedicato completamente allo sport per i bambini e ragazzi con Equisport Quiliano e a Tutto Sport per conoscere e provare a cura dell'assolato allo sport e della polisportiva Quiliano. Il ritrovo è alle ore 15 in piazza Costituzione. Per accedere a convegni, mosse, spettacoli e richiesta la prontazione è necessaria la certificazione Green Pass. SAT Servizi pubblici a società capitale pubblico si evolve e investe anche nel rapporto con gli utenti. Si può scaricare la nuova app di SAT su Google Play o su Apple Store e scegliendo il tuo comune sarai sempre informato su tutte le novità riguardanti il servizio di raccordo e dei rifiuti e igiene urbana, sugli orari, sulle novità di consegno del materiale e kit e quindi sarai sempre aggiornato con SAT e il servizio è gratis. La giunta comunale ha concesso il patrocinio del comune e l'uso gratuito della piazza della chiesa a Valleggia l'Aism, Associazione Italiana Scalosi Multipla per la Campania La Mela di Aism. Questa iniziativa si svolgerà nei giorni di 2-3 ottobre 2021. L'iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi di Aism andrà a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire a potenziare i servizi destinati alla persona con sclerosi multipla. Si rinnova altresì la comunicazione informativa sul fatto che è stata rinnovata l'ordinanza numero 702 obblighi dei proprietari frontisti per la manutenzione della vegetazione e della proprietà in fregio alle strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale. L'ordinanza è rivolta a tutti i proprietari frontisti, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni, di immobili in fregio alle strade pubbliche e vicinali ad uso pubblico nel territorio comunale che devono intervenire entro 60 giorni dal 25 agosto 2021. L'ordinanza è pubblicata sul sito del Comune. Si comunica anche che anche quest'anno è stata rinnovata l'ordinanza di chiusura in caso di allerta arancione rossa per tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale per l'anno scolastico 2020-2021. I contenuti dell'ordinanza anche in questo caso sono presenti sul sito del Comune. Concludendo, in merito ai dati ricevuti da Asle e Alisa sulla pandemia che interessa il nostro territorio, i soggetti positivi sono 6, in quarantena sono 4. Buon weekend a tutti e buon sabato.